Oggi ho preparato per voi un primo piatto decisamente invernale. Si tratta dei bocconcini di formaggio, in particolar modo di parmigiano, cotti in brodo, che è il brodo che può essere vegetale o brodo di carne. Seguite tutta la ricetta in cui vi illustro gli ingredienti del procedimento per realizzarli. Sono molto molto facili di anticipo. Vi illustro adesso gli ingredienti necessari per preparare la nostra zuppa con bocconcini di formaggio. Innanzitutto abbiamo bisogno di ammorbidire 50 g di burro. Utilizzeremo poi 100 g di parmigiano tagliato in pezzi e 100 g di semola rimacinata. Poi utilizzeremo 3 uova intere e andremo ad aromatizzare con della noce moscata, del sale e se vi piace anche del pepe. Per prima cosa andiamo a grattugiare per così dire il parmigiano mettendolo nel boccale per 10 secondi con una velocità che va progressivamente da 2 a 10. Il parmigiano è nel boccale, adesso do le impostazioni per il robot. Quindi vado a mettere 10 secondi come tempo, parto da 2, do start e progressivamente aumento. Il parmigiano è grattugiato in maniera piuttosto grossolana, adesso metto tutti gli altri ingredienti nel boccale. Quindi inserisco la farina, le uova, il burro, il sale e la noce moscata. Vi ricordo potete aggiungere anche il pepe. Chiudo il tappo e imposto il robot. Adesso con il tappo chiuso imposto il robot mettendo 30 secondi a velocità 6. Quindi tempo 30 secondi, velocità 6. E do il via. Il tempo è trascorso, mentre si svolgevano questi preparativi ho messo a preriscaldare il forno a una temperatura di 180 gradi, modalità statica, e mi sono munita di una teglia, come questa o altrimenti altri tipi di teglie, ma non troppo grandi, in cui andrò a spalmare il mio composto, cercando di renderlo il più uniforme possibile. Vi faccio vedere il composto che ha, diciamo, la consistenza di una polenta, di una mousse e quindi è facilmente spalmabile nella nostra teglia. Adesso faccio uno strato che deve essere alto circa un centimetro, dopodiché vi dico come infornare. Ecco spalmato il nostro impasto, adesso lo metto in forno a 180 gradi, lo tengo circa 20 minuti a cuocere e ci vediamo dopo per vedere come è una volta spornato. L'impasto è cotto, adesso lo faccio freddare, poi lo vado a tagliare in piccoli cubetti. Nel frattempo ho preparato un brodo vegetale, ma se vi piace potete prepararlo anche di carne. Vi metto a questo proposito nella descrizione sotto il video i link per le ricette del brodo granulare e vegetale del brodo di carne. e una volta che il brodo andrà a bollire nella pentola metterò i quadrettini tagliati e li farò bollire un minuto. Faccio tutto questo che vi ho appena esposto, dopodiché vi mostro il risultato finale. Ed ecco qui pronti i nostri bocconcini di formaggio, ancora fumanti come vedete, in brodo vegetale. Spero che la ricetta vi sia piaciuta e se vi è piaciuta vi invito a mettere un like a questo video e a continuare a seguirmi sul canale YouTube In Cucina con Messier, iscrivendovi al canale. In più vi invito anche ad iscrivervi al gruppo Facebook Messier Chusing Connect Plus Italia e poi a seguirmi sul sito www.messiericette.it. E buoni bocconcini di formaggio in brodo per tutti! E buoni bocconcini di formaggio in brodo per tutti!